Questa è una piccola grande iniziativa, potrà sembrare apparentemente modesta nella sua qualificazione ma secondo me avvicinare il cittadino con un rapporto empatico con i rappresentanti della Polizia Metropolitana è un grande gesto. La loro sede è un po' decentrata per cui se un cittadino oggi vuole segnalare delle cose, vuole confrontarsi con delle divise, delle uniforme che in questo momento svolgono un'attività di grande importanza, molto attuale, tutti ne parlano. I problemi ambientali sono problemi all'ordine del giorno, incidono sulla vivibilità delle persone, delle comunità, l'abbiamo visto già con gli incendi sul Vesuvio e sull'area pedevesuviana. Credo che l'importanza e l'efficacia della Polizia Metropolitana in questo settore a livello di indagini, di accertamenti e approfondimenti sia importante, sia fondamentale per le comunità. C'è stata un'evoluzione anche per quanto riguarda le forze di polizia, come sapete la polizia forestale è stata fusa con l'arma dei carabinieri, ha assunto funzioni investigative performanti, infatti hanno condotto l'indagine per quanto riguarda gli incendi, i dolosi sul Vesuvio e credo da queste sinergie di strutture enti che si occupano in maniera specifica, puntuale ed efficace dei reati ambientali possa rappresentare ed è una grande risorsa per le comunità, al di là dei problemi di criminalità organizzata in capo alle forze di polizia, in una città bella, stupenda ma difficile, i reati ambientali al pari incidono sulla vivibilità delle comunità, per cui è importante che ci siano professionisti motivati, che hanno passione e che hanno competenza per investigare su questi fenomeni criminali e ridare dignità ai territori. Ma è sicuramente un presidio importante, il centro di Napoli è spesso afflitto da varie problematiche, quindi la nostra presenza sicuramente accrescerà il perseguimento della legalità e della giustizia. Allora, la sede è sicuramente importante, i reati che persegue la polizia metropolitana sono i reati legati all'ambiente e alla strada, ma ciò non toglie che il presidio in una piazza così importante, in un centro così fulcro della città di Napoli, possa essere un presidio di legalità, ma per qualsiasi reato. Gli agenti di polizia metropolitana sono agenti di polizia giudiziaria a tutti gli effetti e quindi perseguiranno qualsiasi reato garantendo ai cittadini un po' di tranquillità in più. Presidio di legalità a piazza Matteotti per proseguire i reati classici della città metropolitana, ma anche per dare un segnale? Ma sì, è un ulteriore presidio della nostra polizia provinciale, qui nel palazzo della città metropolitana, in piazza Matteotti, Matteotti, un segnale forte, questa istituzione c'è e quindi un ringraziamento alle donne e agli uomini della polizia provinciale, un investimento che la città metropolitana ha voluto fare.